sei sicuro che ci sia andato bravo scrolla dagli il tempo della spazio di uscire bravo cacciasi due dita dentro il caricatore metto da qualche parte da sotto due dita dentro da sotto esatto scrolla arma bravo vai tagli lo spazio per uscire bravo guarda quell'incipamento lì devi fare con la mano libera non verrà mai via prendi una munizione dall'altro caricatore tieni l'otturatore tirato indietro da sopra svincola con la punta niente canna per terra del fucile ok ma c'è il magnete c'ha no è ottone infine le dita dentro da sotto ok bravo e gli avevi fatto tre questo esatto bravo dai che inizia a girare tondo merda emergenza se in emergenza hai un altro caricatore mettiglielo guardaci guardaci spazza spazza in avanti esatto esatto via il dito del gareletto quando fai così bravo spazza bravo guarda guardaci 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 lascialo sparare un poveretto emergenza ce l'hai un altro è un lavoro puoi anche respirare durante tira pure bravo vedi che l'apprendimento c'è la solo sparare un po bravo ho capito come fare si ho capito basta raccatta tutto dopo facciamo la conta delle cartucce è un lavorone bravo porta il